Al via l'estate 2019 ad Agropoli con un cartellone che spazia tra musica, moda, cultura, teatro, danza, sport e da letterale giornate e le serate di questo inizio di estate agropolese. La città di Agropoli è pronta dunque per un'estate frizzante con eventi e iniziative per intrattenere i cittadini e accogliere al meglio gli ospiti. Un cartellone tutto da vivere, dalla musica al teatro, dallo sport alla danza, passando per la moda, la cultura e tanto altro ancora. Il mese di giugno è ricchissimo di eventi importanti, naturalmente il fiore agli occhiello e certamente il campionato nazionale di arteria leggera che sarà sul nostro stadio Guariglia il 21 di 2 e 23 di questo mese di giugno con migliaia di atleti che verranno ad Agropoli, atleti giovani che saranno accompagnati dalle famiglie e che verranno da tutta Italia. Questa naturalmente ci inorgoglisce, ma non solo quel weekend, tutti gli altri ci saranno ricchi di eventi sportivi e non che dando la possibilità alla nostra città di respirare con l'arrivo di tante persone che vengano da fuori per motivi legati allo sport e quindi la nostra accoglienza sarà messa a disposizione di tutti coloro che verranno. Quindi ne siamo felici, ne siamo orgogliosi e credo che il percorso sia quello giusto, quello di cercare di far vivere la nostra città nella maniera sempre migliore.